c'è vincenzo che sta soppando come un drago raga la fine season tra 28 giorni e 20 minchia argento oro diamante mitico leggendario campione la vedo veramente brutta raga allora scusami ok guarda c'è not christy che cazzo non so è oro 3 ma se pazzo non ero 3 minchia fortissimo appunto 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 butti fuori ma non vincenzo non puoi vincenzo non puoi questo ancora più forte quello di prima andiamo ma non sono io ma non puoi devi metterti pronto forse in trio è certo ok io non so cosa stia succedendo signore rapina santuario siamo con i am champion bello mi piace così super fast vincenzo dobbiamo rompere la cassaforte nemica questo qua c'è già del c'è già rank ma anche noi sicuro siamo bronzo 21 sono morto porti questi sono morto adesso ma ho difeso ancora la cassaforte siamo andiamo andiamo bussha 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 ma ho fatto l'auti sulla cassaforte vincenzo ho fatto un casino sulla cassaforte è praticamente andata la loro ha fatto l'ultimo per lui ci sono io pezzi di merda no se questo dai che andiamo schiaccio io schiaccio io vincenzo schiaccio io easy vaffanculo no questo non c'era un'idea ragazzi c'è quasi al 2 quasi al 2 vince ah chiude il cazzo oh porco diaz ma che cazzo ne so invece ma la gente come fa la gente ad entrare nelle mie lobby dicono che in due non trodiamo mai nessuno vai ragazzi ok ci abbiamo dentro uno che ha detto ciao perfetto metto di nuovo pronto me lo ne abbiamo dentro uno 5 su 6 vedi già qua buono mi chiamo lasciato altri due se continuo a vedere questo che gira il solito giocare una slot machine pronto 6 su 6 ci siamo ci siamo possiamo partire per favore ma come andrà anche troppo alto ragazzi che non aveva fatto un rank ok fai gol ok fai gol io mi sento di fare gol vincenzo cioè ma non ho capito perché mi ha fatto scegliere tre prole a livello 9 sai che tanto uso sempre lo stesso perché nel caso io scega il suo e l'altra sceglie un altro che a 9 lei ha sempre una possibilità ok no non ho capito niente andiamo a vincere questi passi rompono in una vera vergognosa e te lo dico sono morto io però morto lui futtana di quella strozza di sua madre baldracca ci hanno rotto tutto vincenzo se qua arrivano siamo morti e non ci sta vicenda è difficile sto pallone comunque perché mi tolgono tutto il lerdo morti due morti due x0 prendi qui la palla ce l'ho lui morto pure l'ultimo let's gooo è un macello Ernesto è un macello è un macello Ernesto si morto uno non è vero sono morto solo io morto uno non è vero sono morto solo io sono tornato sotto easy dentro così cazzo oh bronzo due vince bronzo due famo merda nuovo profilo da battaglia bronzo voglio mettere il profilo da battaglia vincenzo posso metterlo minchia che cazzo posso fare qui ve lo spieghi che cazzo faccio votiamo fuori quel coglione bravissimi sei dei campioni vostra madre puttana vostro padre puttana le persone bronzo tra le parole manchiamo così manchiamo così dai rock al 10 ce l'ha lei si 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 ma anche puoi fare cagare vincei hai scioppato quanto fai cagare vincenzo smetta di scioppare sui giochi no io lo giuro 0 euro questa equilibratissima come come partita match 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 later è equilibratissima è equilibratissima mio povero ma vaffanculo dai ma vaffanculo vai ma vaffanculo vai ma vaffanculo arco di quel porco di quel porco ma vaffanculo mi prendo uno e dividiamoci una destra e una sinistra che sono via buono così bene così bene così bene così bene così vincenzo c'è un 327 non male dai stiamo salendo penso posso sbloccare un premio mitico ombroer è di colt bello bello c'ho lo stile di colt non ci sono quelle con 10 gemme risultati che hanno porto diaz niente ma vaffanculo te l'occhiolino coglione niente niente il nostro torno indietro il nostro torno indietro il nostro torno indietro vincenzo il nostro torno indietro vincenzo con una gemma torna indietro 181 è buono è molto buono il ilenia la conosce ilenia era una che conoscevo si non aveva delle doti a delle doti per di legna sfondata allora era proprio lei mi sa nel senso non avevo visto che eravamo con ilenia sfondata andiamo a signorina ilenia che ci tiene a precisare che l'esperienza potrebbe essere quella di un salami in corridoio la gara è morto questo 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 ma non questo ma come è possibile non muoci su quelle quali ma ilenia è fk ma non c'è chi so io ok si è ripreso porco ilenia sfondata di come ne muoverti altrimenti ti chiamo ilenia slabbrata fra poco a c'è proprio facile semplice chicca questa troia di merda perché dico viene andare avanti a prendere cazzi invece che giocare al cellulare fede la patata entrato devo confermare devo confermare mai torna con edgar vincenzo e si vuole proprio del male ma vede la patata andiamo dai fede la patata e legna la sfondata porco di piazza niente siamo tutti vincenzo è finita è finita vincenzo è finita è finita molto semplice è finita vaffanculo facciamo scarsi in culo dai no 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 non è finita non è finita finché non è finita xero però dove decide quello ah siamo di 70 per ora oh i ragazzi mi dicono di povero di andare a usare la rota miro del porco se non miro non li prendo se miro non li prendo vaffanculo dai bravi 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 oh non becco un colpo raga perché se utilizzo l'automira non mi mira se miro non ci prendo e quindi siamo fottuti palla così passero andiamo subito sulla palla questo martin easy dai vaffanculo potremmo forse essere arrancati qui e infatti argento 1 vincenzo argento 1 anche io merda raga cosa? non voglio dirancare epico non voglio dirancare anch'io epico anch'io 100 energia buono 100 energia però non mi faccio proprio un cazzo di niente cioè vincenzo noi ci abbiamo messo credo un'ora e venti minuti a fare via tutto il bronzo e adesso è un disastro no ma ce la facciamo lei sostiene che noi ce la facciamo 100% 100% sempre tutti raga vai 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 tutto libero morto 1 morti 2 dentro sono da solo sto prendendo arrivo morto 1 morto 1 l'altro 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 sono morto anche il terzo sono entro io morto morto però ho preso ho preso un po' morto 1 bravo entro entro con con la ulti ho messato tutto ho messato tutto sono morto ancora e ho messato tutto no abbiamo perso abbiamo perso quella maiala di sua madre quella buttana di merda del porco di diavolo però non abbiamo perso trofei eh ho messato tutto ho messato tutto raga ho messato tutto però io vince gioco con il tracking automatico e prendi il cazzo miro e prendi il cazzo vuoi dire che mi piace prendere il cazzo quello con la gemma è morto no 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 so a sinistra quello con la gemma non riesco vincenzo non riesco proprio vincenzo non riesco non sono in grado percorso porco diavolo è il problema che non posso cambiare brawler raga niente 35 in meno vabbè vabbè basta che vinciamo ce la facciamo a salire eh vincenzo ho capito un secondo vabbè se sta non possiamo vincere tutti sì ma non possiamo neanche perderle tutte vincenzo no ma mica stiamo perdendo tutte stai scherzandoci però sì ragazzi vincenzo c'ha dio caro il microfono in cucina e parla dal bagno vi prometto che questa partita la vinco dentro così dentro così oh merda oh merda a che rango è il primo sì dai bravi trova troppo forti raga oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda questa partita la vinco la vinco la vinco